La serata della finalissima della città di Ancona, i ragazzi della Sportwear che si confronteranno tra qualche istante sul mitico campo di Piazza Bertini e saremo certi e ce lo auguriamo di accoglierli anche quando saranno più grandi da protagonisti assoluti del torneo accompagnati ovviamente dagli allenatori e dal presidente della Sportwear Fabrizio Farinelli accogliamo con un grandissimo applauso i ragazzi uno a uno cominciando da Filippo Attili raggiungi il centro campo seguito da David Simmini proseguiamo con Vittorio Broccani accogliamo con un grande applauso anche Valerio Rossetti continuiamo con Alessandro Simmini per la squadra blu invece accogliamo con un grandissimo applauso Nicola Bosca Leonardo Russo Alessio Attili Mario Morichi e in ultimo ovviamente non per ordine di importanza Matteo Cappella un grandissimo applauso anche per lui questi sono i dieci giovanissimi della Sportwear che tra poco si confronteranno sul teatro del Fuzzal sul campo di Piazza Bertini buon divertimento ai genitori ancora un grandissimo applauso per i ragazzi della Sportwear